Prosegue il percorso precampionato del Gubbio che nella sesta uscita stagionale affronta il Trestina. Braia ripropone il 4-3-1-2 con Arena alle spalle di Artistico Espina lasciando fuori dai convocati in Bakogu a scopo precauzionale. Il primo squiller rosso-blu arriva dopo 9 minuti punizione di Arena da 20 metri con il Mancino a rientrare. La sfera si stampa però sulla traversa. Ancora Gubbio al 24esimo ci prova Franco Fonte dal limite. Il tiro esce centrale con Tozai che blocca in due tempi. Passano 4 minuti ancora Franco Fonte da corner mette in mezzo una palla bassa e tagliata sulla quale Bonini è il più veloce ad arrivare dall'interno dell'area piccola in sacca. Si chiude sull'1-0 la prima frazione e ad inizio secondo tempo entrano Meneghetti, Ruggeri e il neo arrivato toscano per Di Gennaro, Corsinelli e Bontà. Al decimo da corner di Cecuzzi, Morlandi la tocca di testa girando verso il secondo palo ma non c'entra lo specchio della porta dopo la solita girandola di cambi con gli ingressi di Portanova, Signorini, Morelli, Bulevardi e Treppiedi per Redolfi, Semeraro, Arena, Spine, Artistico. Al ventottesimo si rivede il gubbio con la discesa sulla sinistra di Bonini che serve Franco Fonte a centroarea ma il numero 10 rosso blu spara alto da ottima posizione. Ultimo squillo al trentanovesimo quando Franco Fonte crossa da corner, Signorini la spizza ma Cenerini salva sulla linea evitando il raddoppio. Finisce quindi 1-0 con il gubbio che ottiene la quarta vittoria in sei partite e ora si torna al lavoro per presentarsi in forma ancora migliore. All'amichevole contro il Gavorrano prevista per domenica 14 alle ore 16. Il DS Mignemi intanto continua a lavorare anche sul fronte mercato. Ieri è arrivata l'ufficialità della rescissione consensuale del contratto di Sarao che ha già trovato l'accordo con il Catania. Ora si proverà ad accontentare Braia con l'acquisto di un altro attaccante a completare il pacchetto offensivo. Il primo della lista è Federico Vazquez lo scorso anno al Catanzaro.